Mauro Marin ridica con Massimo Scattarella. Fu uno degli episodi che ancora oggi viene molto cercato nel web e non solo, da parte di molte persone. Era uno dei grandi fratelli, non ricordo quale edizione si trattasse nella fattispecie, ma in quella edizione, di cui ripeto mi sfugge quale numero sia stata, tra le diverse coppie che in qualche maniera si scontrarono ci fu la coppia formata da Massimo Scattarella e Mauro Marin. Tra di loro non correva un rapporto così piacevole come qualcuno potrebbe eventualmente pensare, infatti più e più volte questi due personaggi televisivi andarono a litigare. Per carità, nessuno ha mai alzato le mani contro l'altro, però vi ricordo perfettamente in alcune circostanze che c'era appunto c'era degli scontri veri e propri, quando poi il buon Massimo Mauro Marin disse al buon Massimo Scattarella, pio, 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 e la risposta ovviamente non si fece disattende. Insomma, sto parlando di due personaggi forti, il grande fratello, uno molto muscoloso, sto parlando di Massimo Scattarella, Pugliese, Doc, l'altro, un Veneto di Castelfranco, ex sarumiere se non vado a rato, ma ciò potrebbe anche essere sbagliato, che però riuscirono in qualche maniera a scontrarsi. Tra probabilmente i motivi di una presunta ride che ci fu, proprio la gelosia nei confronti della bellissima Verona Icciardi, probabile oggetto del contender dei due, entrambi molto affascinati dalla bella ragazza romana, che ancora oggi penso molti si ricordano, ci fu degli scontri, ci fu degli scontri, ripeto abbastanza palesi, comunque non si è mai ricorsi alle mani per fortuna, ma scontri tipo verbale. Detto ciò, ringrazio voi tutti per l'ascolto, il video termina qua, vi ricordo altresì che proprio in una puntata del grande fratello, per l'appunto, i due si scontrarono in modo anche abbastanza forte a livello sempre verbale e si videro proprio attaccati l'uno all'altro davanti, in un faccia a faccia che poi resterà nella storia del grande fratello. Qui su YouTube non è possibile caricare il video di Mereset per tanto accontentare di questa recensione, grazie.